Come voi vedete questi cordoncini fuori dalla ceramica stessa ed applicati prima della cottura. Certamente l'artefice incognito, ignoso, voleva raffinare il suo gusto, voleva riempire un vuoto, voleva certamente giocare, giocare per giocare, forse era la cosa più importante. Ed è in questo gioco che mi sono trovato, si può dire, come in voi. Adesso sta facendo gli odori, le pareti, lo spazio. E poi un altro elemento legato al ruolo che si diceva prima, che oltre a delle funzioni standard, che sono proprio del ruolo, quindi la parete è qualcosa di verticale o una chiusura, c'è un elemento specifico del ruolo, che è appunto quello del colore, nel caso della parete, dell'odore, che connota ciò che appunto è stato creato.